Ciao a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale Oggi siamo tornati qui in un nuovissimo video Perché oggi parleremo di Sergei Miniquis Savic, soprannominato ovviamente il sergente da parte Praticamente di tutti Like, iscrivetevi alla campanella, fatemi sapere cosa ne pensate Ma adesso andiamo a parlare di tutto in questo nuovissimo contenuto di giornata Allora, poi farò anche un altro video mi sembra Però detto questo dai, possiamo tranquillamente partire Perché ragazzi, Miniquis Savic ha avuto un'offerta molto molto importante Dalla Lilal, club dell'Arabia Saudita E secondo varie fonti appunto Alla Lazio sarebbe arrivata un'offerta di 40 milioni di euro per un giocatore in scadenza Sono tanti, parliamoci chiaro 40 milioni per Miniquis Savic a scadenza sono tanti E qui, nonostante l'ottinto secondo me, non ci capisce Cioè non dico un cavolo di calcio però Uno che inizia il calciomercato a luglio Per me, cioè Manco a luglio, prende il 10 luglio e non ha ancora fatto un acquisto Per me l'ottinto non è un presidente bravo Mi ha umidissima opinione Però qui è stato molto bravo Se alla fine Miniquis andrà in Arabia a ricavare 40 milioni Quindi qui, nonostante tutto Perché secondo me l'ottinto, ragazzi ripeto, non capisce molto il calcio Qui l'ottinto è stato molto bravo Ricavare ben 40 milioni da parte della Lilal per Miniquis Savic con il contratto in scadenza Miniquis Savic sembra orientato a dire di sì Guadagnerebbe 20 milioni all'anno E il giocatore appunto sembra orientato a dire sì alla proposta della Lilal dell'Arabia Saudita Ci sono già tanti giocatori nella Lilal, Ruben Neves, Kulipali Ma in generale in Arabia ci sono anche Kanté, Benzema Oppure penso a Ronaldo, penso a Mendy Penso a tanti altri ragazzi Io non so se il campionato arabo sarà uno dei migliori del mondo Però fatemi dire che vedere tutti questi campioni, questi campionati Mi rende triste Perché comunque ragazzi questi sono giocatori che possono dare tantissimo Ruben Neves poteva dare ancora molto Perché non metto in dubbio che con questi campioni il campionato arabo Potrà diventare effettivamente uno dei migliori del mondo Questo non lo so E quindi sì il livello si sta alzando Va bene ma il campionato arabo ragazzi Non fargli delle polli Fargli letteralmente i polli Ed è un campionato orribile, non gioca la Champions Cioè secondo me un giocatore deve andare in questi club A fine carriera E non lo so se magari è stato martellato dagli infortuni Si è vinto tutto Per esempio io la scelta di Kanté Che è andato in arabia Lo condiviso al 101% Perché Kanté era martellato dagli infortuni Ha vinto tutto con Chelsea E quindi Kanté giustamente va in arabia Comunque Kanté ormai è a fine carriera Non dico che è finito ma è a fine carriera Però ragazzi per esempio non ho condiviso la scelta di Ruben Neves Perciò che è nel pieno la sua carriera va in arabia Poi non so quanto sta Ruben Neves in arabia Però Boh anche Koulibaly Per me Koulibaly poteva dare ancora qualcosa al calcio Per me poteva anche dare qualcosa Quindi non l'ho capito questa scelta Anche se già Comprendo più la scelta di Koulibaly Piuttosto che quella di Benzema per esempio Boh Perché io non so se Benzema avrà convocato da Deschamps Per l'europeo della Francia Boh anche Mendy Per me Mendy ragazzi si ha vinto tanto con i Chelsea Però Mendy poteva anche dare qualcosina Boh Boh ragazzi Boh E appunto Meninguic sembra unirsi a questo trenino Tra virgolette Infatti sembra orientata a dire di sì Sembra orientata a dire di sì ma Io dico Ma come si fa a dire sì Io capisco i soldi Ma ragazzi ma i calciatori sono dei privi agenti Che devono ringraziare la madonna Se guadagnano così tanti soldi Cioè ma ragazzi loro canciano un pallone Per carità si è allenato tanto duramente Fanno degli sforzi Questo non li metto in dubbio Ma ragazzi ma cazzo guadagnano Al curdi delle cifre ragazzi incredibili Cioè guadagnano delle cifre Fuori mercato invece Diciamo Per esempio non lo so un medico guadagna Non so quanto al mese Cioè cavolo Ragazzi c'è i calciatori Che calciano una pala Per carità Si allenano duramente Magari tutto Durante la giornata Certo Ovvio che Meritano i soldi Ma non quelli Cioè non puoi dare Banalmente No senza una logica Però tu non puoi dare 8 milioni a un calciatore Che calcia un pallone Si ripeto Si allena tutto quanto Ragazzi ma i veri lavori sono altri Cioè i veri lavori sono altri Cioè Perché andare in Arabia Cioè cazzo ma ragazzi Ma Meningovic non ha vinto Niente in carriera Niente È stata la Lazio per tantissimo tempo Poi io non ho capito veramente Perché Meningovic non si è andato via Già prima Già prima E adesso va in Arabia Così Poi magari ci sono delle motivazioni No In particolare Ma ragazzi Cacchio Cioè Meningovic Poteva tranquillamente andare in un club Non dico il Paris Saint Germain Però In un club vincente come che ne so La Juventus Banalmente il Milan Banalmente il Milan Pure l'Inter E tutto si risolveva Piuttosto nella peggiore delle ipotesi Poteva restare la Lazio Però per me questo giocatore Si è accettato l'Arabia Saudita Ci sarà un motivo Ci sarà un motivo Per me A scelterare l'Arabia Saudita Per i soldi Cioè Boh Non dico si rovina la carriera Però cavolo È vero che Meningovic Ho 29 anni Quanti ne ha Però cavolo ragazzi Troppo devi vincere tantissimo E Con tanti altri club Che cosa vuol fare Questo si Diciamo rovina la carriera In Arabia Saudita Poi per Keita Vediamo un po' Ma Il calciatore secondo Di Mars Secondo altre fonti Sembra orientato a dire sì Per la Lazio dal punto di vista economico Questo è un capolavoro Questo è assolutamente un capolavoro Quindi è stato molto bravo Piace o non piace allo Tito E Quindi chapeau Direi Chapeau E anche bravi Bravi a aspettare l'offerta giusta Però ragazzi Cioè Io da Juventino posso Dirlo Io non volevo Meningovic Io nella mia squadra Non volevo Meningovic L'ho detto a più riprese Più che altro perché ragazzi Ogni anno lo stesso nome La telenovela di Meningovic Io Meningovic lo volevo 3-4 anni fa 3-4 anni fa E non mica ora Cioè io Io mica ora lo voglio Perché cavolo Abbiamo Rabiot Abbiamo Locatelli Abbiamo Fagioli Abbiamo Rovella Abbiamo Miretti Che comunque per me Non è ancora pronto Ma comunque tra un paio di anni Sarà sicuramente pronto Per giocare la Juve Cioè per me La Juventus Un centrocampo Fortissimo Comunque anche a lungo andare Cioè questo centrocampo Tra dieci anni Può essere uno dei Non dico più forti del mondo Però cavolo Fagioli Locatelli e Rabiot In questo momento È uno dei migliori Secondo me Reparti della serie A Secondo me Quindi io cioè Vi dirò Sono molto più contento Di aver tenuto Rabiot Piuttosto che Andrà a spendere Quei 35 milioni Per Meningovic Più lo stipendio Che più o meno Era simile a quello di Rabiot Più o meno Forse un po' inferiore Vi dico Io Rabiot Non l'avrei mai rinnovato Nella vita Però Io non avrei mai Preso Meningovic E allora Piuttosto Mi rinnovo Rabiot Per un anno E Meningovic Però non lo prendo Anche perché Sto Meningovic Ragazzi Mi hanno un po' Rotto il cazzo Cioè ve lo dico Sinceramente Di detto Schietto A me ha rotto il cazzo Cioè ogni volta E sarà costata la Juve Basta Basta Finalmente sei andato Cioè finalmente sei andato Così non vedremo più Meningovic Alla Juve Poi spero che A sto punto Andrò in Arabia Cioè Diciamo che Ci spero Perché così almeno Non vedremo più Meningovic Alla Juve Perché Io non ho sto desiderio Io non ho sto desiderio Però dall'altra parte Avrei Piuttosto Cioè mi sarebbe piaciuto Che magari Non lo so Andasse Andava in Non lo so In Francia O banalmente in Inghilterra Perché è sempre bello Vedere Giocare questi campioni In coppe importanti Come la Champions League E nulla Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo affare Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti